Mentre la politica è in vacanza e si rilassa al sole, i lavoratori molisani, o meglio i tanti precari, sono costretti a manifestare per chiedere il rispetto dei propri diritti. È il caso, tra i tanti di cui la nostra regione è ricca, dei dipendenti di Funivie Molise, che stanno protestando con un sit-in a Campitello Matese per chiedere a gran voce il pagamento dei propri stipendi. Avanziamo le mensilità di febbraio, marzo ed aprile, hanno detto, e la regione fa solo promesse prendendoci in giro. Il 6 agosto abbiamo incontrato nuovamente il presidente Niro, che ci aveva assicurato il pagamento entro otto giorni, ma ancora nulla di fatto. I nostri politici, hanno commentato ancora, sono bravi a parlare di sviluppo, di turismo, di rilancio del Molise, anche attraverso la montagna, ma concretamente non riescono nemmeno a trovare le soluzioni adeguate per pagare qualche stipendio. Ad agosto, di norma, alcuni lavoratori stagionali tornano in servizio per la manutenzione dei macchinari e della funivia, per assicurare la stagione invernale ed evitare anche che gli impianti arrugginiscano al sole. Quest'anno, invece, è tutto fermo e non si sa quando si tornerà al regime. Per questo, hanno concluso i precari di Funivia Molise, andremo avanti ad oltranza con la nostra protesta e molto probabilmente ci trasferiremo davanti al Consiglio regionale. Stipendi arretrati e difficoltà varie anche per i lavoratori della vigilanza, che prestano servizio proprio nei palazzi della regione Molise. A denunciare la situazione il segretario della Wiltux, Pasquale Guarracino. Mercoledì sciopereremo insieme i dipendenti della società Aquila, che purtroppo, ha detto il sindacalista, continuano a non avere nessuna certezza sul loro futuro lavorativo. Basti pensare alle irregolarità sul TFR, che è stato versato solo fino al 2008. Nove, invece, gli stipendi arretrati, tra concordato e mensilità aggiuntive, per i dipendenti della Tarricone, società di vigilanza del Consiglio regionale. Anche per loro, ha detto ancora il segretario di Wiltux, non si prospetta un futuro rosio. Il TAR di Lecce, qualche tempo fa, aveva infatti ritirato la Tarricone e la licenza per presunte irregolarità. Adesso, ha concluso Guarracino, siamo in attesa di sapere l'esito del Tribunale di Bari, che si esprimerà tra settembre ed ottobre sulla proposta di concordato per capire quale sarà il futuro dei dipendenti.